Da Gauto, Mitsubishi Motors, in via nazionale torrente, mercogliano, a Villino. L'abito di San Pio arriva a Gesualdo il 26 aprile. Il giorno dopo sarà invece presso l'ospedale di Sant'Angelo dei Lombardi. La doppia tappa Erpin arriva dopo che l'abito del santo con le stimmate ha toccato le maggiori capitali europee e più importanti santuari francescani italiani. La Sacra Leriquia di San Pio tornerà per qualche giorno nell'antico convento dei padri Cappuccini, eretto per volontà del principe Carlo Gesualdo. Padre Pio, durante la sua permanenza qui ha percorso le strade del centro irpino e quelle dei comuni vicini, lasciando un inderebile ricordo tra coloro che hanno avuto la fortuna di conoscerlo. Ancora oggi è possibile visitare a Gesualdo la cella e il percorso museale che conserva importanti testimonianze del suo soggiorno. Il saio accompagnato dai frati Cappuccini di San Giovanni Rotondo che la comunità accoglierà a Gesualdo e quello che il santo indossava il giorno in cui ricevette nel coro della chiesetta di Santa Maria delle Grazie di San Giovanni Rotondo il dono delle stimmate. La reliquia giungerà venerdì 26 aprile alle ore 17 al convento dei padri Cappuccini, da cui verrà portata in processione con una fiaccolata nella chiesa parrocchiale di San Nicola ed anche presso la sede del centro di coordinamento di gruppi di preghiera di Padre Pio della Campania. Alle celebrazioni prenderà parte l'arcivesco Monsignor Pasquale Cascio, i gruppi di preghiera porrovenienti da tutta la regione, l'animazione pastorale giovanile della provincia religiosa dei frati minori Cappuccini di Sant'Angelo e Padre Pio. Lo sabato 27 alle ore 9 partenza della reliquia per il presidio ospedaliero Crisculi e centro Don Gnocchi di Sant'Angelo dei Lombardi. Alle ore 12 cerimonia di saluto e rientro presso la chiesa di San Nicola di Bari e Antonino Martire. L'abito di San Pio resterà a Gesualdo fino a domenica 28 aprile.